Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovissimo video. Eccoci qui prontissimi per parlare come al solito del Festival di Sanremo, soprattutto per il caos che è scoppiato tra Anna Oxa e Fedez, proprio in queste ore si sta parlando sempre di più di questo caso qui. Allora, proprio per andare nei particolari, il rapper originario di Milano ha attaccato la cantante per un comportamento scorretto che avrebbe avuto. Infatti gli ha detto, ehi, c'era una scaletta di artisti che doveva fare le prove. Lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore e c'erano altri artisti prima che stavano aspettando. Lei poi è arrivata e ha saltato la fila. Veramente maleducata. Era molto tentata dal dirglielo, ma poi l'ho vista e l'ho lasciato perdere. Inoltre, sempre fuori Sanremo 2023, Fedez ha aggiunto a proposito di Anna Oxa, però è un comportamento. Non me ne frega un ca' se lo saprà, non ci si comporta così. E lei, attraverso il suo staff, ha prontamente replicato al marito di Chiara Ferragni, non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie, la stampa o lui lasciano il tempo che trovano. Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Prima della finale di Sanremo 2023, Fedez ha ricevuto quindi una replica dallo staff di Anna Oxa, che ha detto ancora su Instagram, siamo arrivate alle 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c'era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero finite per tutti. Avevamo otto persone davanti a noi e abbiamo chiesto come fosse possibile che solo tre avessero fatto le prove. Ci hanno consigliato di spostarci nella Red Room perché probabilmente passavano avanti altri artisti. Considerato che la Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l'antibiotico, prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto se poteva provare. Ma il lungo post non si è fermato qui. A Fedez non l'ha nemmeno visto, perché lui da persona per bene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno. Poi se è una notizia come quella con Madame per far lavorare gli opinionisti. Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona. Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei. Infine, Anna Oxa tramite i suoi fidati collaboratori ha aggiunto su Fedez, ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti. Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena. Non capiamo il suo problema. Non c'era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da, non sappiamo se è vero, permettersi di aggredire l'onore e la reputazione di una persona.